Tra il dire il fare c'è di mezzo, mia nonna diceva il mare, tu dici il fare, perché? Sì, perché il mare è lì a portata di mano e sembra quasi una barzelletta, in realtà la differenza, la fa il fare, l'azione fa la differenza, attenzione però, non è tanto il risultato il fare, ma il risultato del fare, perché tutti oggi dicono, noi siamo quelli del fare, noi ci differenziamo perché siamo quelli del fare, anche la nuova politica, noi siamo quelli del fare, benissimo, il problema è che il mondo non ti ripaga per quello che tu fai, ma per i risultati che ottieni, io posso fare un caffè e ci metto lì l'impegno, la passione, la miscela, ma se quel caffè, il risultato di quel caffè non è una delizia, ma una ciofega, e allora quel caffè era inutile che non lo facevo, non lo impiegavo, e questo spiega le enormi risorse economiche, anche a volte sprecate, perché è un fare sterile senza essere finalizzato alla creazione di un vero risultato, e quindi la differenza nella tua vita la può fare solo ed esclusivamente il concentrarti non sull'azione, ma sul risultato che deve generare quell'azione, e lì non ci sono limiti alle nostre realizzazioni. Grazie di questo caffè, Mosco. Grazie a tutti e buona giornata.